Io mi vedo così male Io ricordo 10, 11, 12 anni ho cominciato a indossare qualche abito femminile che trovavo spasso in casa Da lì non ho più potuto fermarmi Anche quando ormai da adulto capivo che era una cosa illogica e razionale che vivevo poi con molto senso di colpa, di angoscia io trovavo la necessità fisica di indossare, provare sognare di recitare un ruolo femminile Siamo alla vigilia di questa cosa tremenda Io ho sempre desiderato però Facciamo una famiglia che superi tutti gli schemi tutti i preconcetti Siamo io e te e il piccolo cane Mi è molto convosso La sala mi è andata da sola La sala mi è andata da sola La sala mi è andata da sola La sala mi è andata da sola